Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale Editoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. Vianemania Grecia 189 Taranto. Corso online sub, somministrazione alimenti e bevande. 120 ore così suddivise. 60 online, 51 in aula, 9 stage. Corso con rilascio attestato riconosciuto dalle Camere di Commercio di tutta Italia. Ente di formazione accreditato. Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale Editoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese. Vianemania Grecia 189 Taranto.